Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi facciamo una cosa stra-figa perché, anche per cambiare, oltre a vedere un po' tutta quella che è la situazione dell'analisi ciclica di Bitcoin, andiamo a vedere Nasdaq e Total Market Cap della DeFi, ma vi mostro anche quattro nuovi grafici di natura fondamentale sul mercato cripto e soprattutto Bitcoin per aumentare il nostro zoom e andare a vedere delle cose che magari non stiamo guardando già da un po' di tempo. Sono quattro grafici nuovi, completamente diversi da quelli che abbiamo visto negli ultimi sei mesi, ma con delle informazioni veramente interessanti, di cui uno, quello che vedremo alla fine di questo video, ci porta anche una predizione, previsione, fatta un po' così, di natura estrapolata, diciamo, dai dati passati di Bitcoin, che ci fa ben sperare, perché dopo settimane un po' negativucce sui mercati delle cripto abbiamo bisogno anche un po' di positività, quindi andiamola a prendere facendo queste estrapolazioni un pochettino fighe, diciamo, e ipotizzando di essere già avanti col tempo nel 2029. 2029 ci sono. Ma... Va bene, allora andiamo avanti ragazzi, subito a vedere quelli che sono i grafici della ciclica di Bitcoin e andiamo al nostro database. Allora, la questione ciclo mensile inizia, non inizia, bla 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 bla. Andiamo a vedere la questione qui legata in termini di tempo dai ultimi minimi. Di nuovo, è come voleva si dimostrare, Bitcoin va a sporcare la struttura dei minimi sulla fase di chiusura dei cicli e lo fa anche Ethereum ragazzi, quindi in pratica non abbiamo un'informazione differente anche dalla legge delle cripto. Allora, vi spiego molto velocemente che cosa ha fatto. Nel minimo della giornata del 12 di maggio ha fatto questa shadow ribassista estremamente pronunciata che è andata a toccare un minimo a 25.000 dollari, circa 25.000 dollari e 3. Questa shadow così pronunciata ragazzi è il minimo di chiusura del ciclo mensile oppure se andiamo a guardare invece la struttura delle close, delle candele daily, ha chiuso il ciclo non intorno al 12 di maggio ma intorno al 18 di maggio. Nuovamente questa figurazione che scherzosamente ho chiamato il pattern Kaimi, ho fatto anche un webinar, una lezione del corso Basic che parla proprio di questo pattern qui ragazzi, il pattern Kaimi che è una modifica di un pattern 1, 2, 3 di John Ross ovviamente modificato e che si adatta alla perfezione con alcuni atteggiamenti che hanno più o meno solo le crypto in forma così ripetuta, quindi così continuativa. Questo pattern Kaimi è un pattern di inversione che solitamente si va a realizzare quando il mercato poi sale al di sopra dell'ultimo livello di massimo ma che comunque trova il suo livello di minimo proprio in quello centrale. Allora, questa struttura ci porta i conteggi nuovamente del cicli mensili sfasati di nuovo come sempre mannaggia a Bitcoin. Allora, per una struttura che dovremmo andare a definire dobbiamo poi comunque partire da uno di questi minimi quindi andiamolo a definire e andiamo a capire quale di questi due è più idoneo ad essere il minimo di partenza del nuovo ciclo mensile di Bitcoin perché molto probabilmente il nuovo ciclo mensile è iniziato ragazzi ma lo so che molti di voi diranno Mauro è iniziato questo ciclo mensile ma molto spento è molto spento vediamo se è un bene o un male e dove le cose potranno cambiare. Allora, vi ho scritto già direttamente quelli che ritengo essere i cicli mensili di Bitcoin più probabili ragazzi in questo difficile movimento che ha avuto dall'inizio di questa struttura semestrale il 22 gennaio scorso quindi dal mio punto di vista fermo restando che ci possono essere differenti impronte che vanno comunque bene da un punto di vista di struttura ciclica ma io ho i miei trucchetti i miei tips ragazzi che non vi svelo qui anche perché sono estremamente opinabili quindi non sono dati quindi non voglio parlare di opinioni personali di cose che poi dipendono un po' dall'esperienza da ventennale insomma e da tanta tanta formazione comunque in linea di massima quella che è la mia idea relativa al Bitcoin è che Bitcoin abbia creato tre cicli mensili estremamente più lunghi che hanno formato appunto un minimo non nel lasciato finale del 12 di maggio ma qualche giorno fa esattamente il 18 di maggio quindi per me la struttura ciclica di Bitcoin chiude un ciclo quadrimestrale circa cioè un 100 di 16 giorni quindi quasi 4 mesi strutturato in forma ternaria che è una struttura abbastanza particolare quindi fatta in questo modo con il massimo nella parte centrale e lo chiude qualche giorno fa è ancora un po' prematuro il discorso di far coincidere dal minimo del 18 di maggio inizio di un nuovo ciclo mensile perché soprattutto Bitcoin non ha in nessun modo confermato almeno la rottura di questo livello cioè dei 32 mila dollari circa che sarebbe consona per indicarci una strada relativamente insomma più stabile di inizio di un nuovo ciclo mensile in ogni caso siamo comunque a 1, 2, 3, 4, 5 giorni e sembrerebbe appunto un tempo sufficiente a dichiarare iniziato un nuovo ciclo mensile anche perché in ogni caso già dal minimo del 12 di maggio il mercato è comunque in questo trend più o meno laterale e non rialzista ovviamente ma più o meno laterale allora da questo minimo io in questo momento sto strutturando una nuova analisi e quindi per me il mercato dal questo minimo del 18 di maggio può aver iniziato un altro ciclo mensile quindi noi come sempre facciamo ci mettiamo la nostra barretta qui davanti e iniziamo a seguire quelli che sono i nuovi andamenti del mercato e più o meno da questa zona ora le logiche di fondo di questa analisi ciclica ci impongono di riflettere sulla questione il nuovo ciclo mensile in questione potrebbe essere il primo di un altro 4-3 mesi che porterebbe alla definizione quindi alla chiusura del ciclo annuale o ciclo dell'albing quello del bear market e in questo caso diciamo porterebbe alla conclusione di tutta questa fase ribassista quando nella fase estiva quindi avremo giugno-luglio agosto barra settembre quindi tra agosto e settembre dove dovremmo andare a concludere tutto il movimento del bear market di bitcoin e del criptovalute ovviamente i 4-3 mesi definitivi di un bear market ragazzi sono teoricamente molto molto rigidi quindi il mercato potrebbe salire fino a un certo livello quindi rimbalzare in maniera accettabile un 10-20% da lì in poi dovrebbe iniziare a soffrire insomma definitivamente allora il discorso è che andare in un trend al ribasso per 3-4 mesi non ha senso per i mercati delle cripto perché i mercati delle cripto sono fondamentalmente molto veloci quindi quando vanno a prendere un trend soprattutto al ribasso ci vanno come avete visto insomma in maniera radicale e non hanno bisogno di tanto tempo perciò la questione legata all'assunzione di posizioni long noi ne abbiamo ancora una in academy che sta tentando di recuperare un prezzo di brecchiven che più o meno insomma è vicinissimo agli attuali prezzi e che se va in porto addirittura ci consente di chiudere il mese di maggio in o a brecchiven quindi a zero o addirittura in piccolo gain nonostante diciamo sia successo un disastro nel mese di maggio per i mercati delle cripto quella è una strategia che va assolutamente only long va bene allora detto questo ragazzi la situazione di questa strategia è all along quindi non la usiamo per fare short anche se abbiamo aperto il nuovo canale crypto spread trading quello che vi ho spiegato insomma a Bologna e nel webinar di chi ha fatto anche il corso e quello che ha fatto il famoso short su luna prima del fallimento del progetto terra e quello ovviamente fa short ragazzi allora come vi ho spiegato non vado short su bitcoin ma sulle crypto sì per quanto riguarda quindi quella fase probabilmente anche nell'arco dei prossimi mesi valuteremo anche delle posizioni di copertura proprio in un'eventuale fase se dovesse appunto darci spazio per entrare proprio per coprirci dai alcuni bitcoin che sono rimasti in holding nella fase di rush finale di questo di questo ciclo quindi attualmente restano validi tutte le cose che vi ho detto precedentemente quindi massima allerta riduzione totale della volatilità del vostro portafoglio non andate a pensare che anche un semplice rimbalzo faccia la differenza per una rondina non fa primavera è ovvio che lo valutiamo perché c'è una singola ipotesi che può anche indicarci che la fine del bear market che il bear market potrebbe essere finito proprio sull'ultimo minimo ma è solo un'ipotesi la vediamo nei prossimi video ed è anche estremamente rara ragazzi quindi tutto può succedere ci mancherebbe noi la valutiamo perché stiamo sempre a favore di trend non è che dobbiamo prevedere il futuro ragazzi però per un certo punto dobbiamo anche decidere tra che parte stare e dire bene io conosco sia l'ipotesi A che l'ipotesi B però patteggio diciamo per l'ipotesi A e quindi mi preparo a quella poi se il mercato va verso l'ipotesi B change in corso d'opera e mi diciamo adatto al trend ok e questo è il discorso quindi questo è il modo giusto di fare l'analisi tecnica degli analisti e di seguire il mercato ragazzi altrimenti non se ne esce più andiamo a vedere quello che riguarda Nasdaq poi total market cap poi passiamo ai 4 nuovi grafici di cui l'ultimo ragazzi è una strafigata perché vi dà la previsione di prezzo di bitcoin addirittura nel 2026 25 insomma la cosa bella comunque la vediamo insomma per darci un po' di speranza anche perché è giusto che sia così allora andiamo a vedere che Nasdaq nell'ambito della candela settimanale è stato un estremo disastro un po' come bitcoin ragazzi alla faccia delle inutili previsioni sulla struttura della serie storica delle candele Nasdaq ci ha sparato 1, 2, 3 4, 5, 6 7 candele rosse a differenza di bitcoin che addirittura ne ha fatte 8 settimanali se non sbaglio adesso vediamo dobbiamo ricordo 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 vedete ragazzi 8 candele di fila settimanali rosse per le criptovalute mi pare sia un unico evento nella storia adesso non ricordo ma le serie storiche sono come quelle del insomma dell'8 dei numeri che non escono ricordatevi che la probabilità di vedere una rozza o una candela verde è sempre 50 probabilità teorica proprio preciso del calcolo delle probabilità poi ovviamente le serie storiche ci dicono che non è molto probabile che avvenga magari 10 candele di fila però è tutto possibile insomma quindi non rientra nella probabilità da calcolo delle probabilità qui abbiamo 7 candele di Nasdaq rosse non succedeva veramente da tanto tempo a quanto siamo in termini di oscillazione di volatilità per il mercato classico a 32% che è un livello di ribasso accettabile per il mercato hold in termini anche di struttura di bear market ovviamente anche il Nasdaq è entrato in mercato in mercato orzo ragazzi vi faccio vedere la sua media a 200 sul grafico ovviamente daily e vedete come dista tantissimo è stata una media che è anche bloccato vedete tutti e due gli ultimi rialzi mi tolgo la 26 in questo caso che è quella che uso io per la struttura di metà anno allora vedete sia qui che qui la media a 200 periodi ha indicato proprio una resistenza questo è un classico proprio da da istituzionali ma soprattutto adesso sta avvinando proprio in maniera drastica e se andiamo ad aggiungere anche la media a 100 vi dice è totalmente diciamo il death cross ma anche con la 50 quindi tutto ovviamente la 50 è sicuro che fa così allora tutto è estremamente negativo anche Nasdaq è al 100% in bear market così come Standard Pulse 500 e tutti gli altri indici di borsa standard c'è sempre la questione legata alla scadenza ciclica di Nasdaq che ci porta a settembre anche lui non ci sono state reazioni degne di nota sull'indice americano che è un po' è l'indice tecnologico che stiamo anche andando a valutare proprio in vista del fatto che bitcoin è ritenuto più una tecnologia in questo momento dagli istituzionali che è uno store of value ragazzi ve l'ho spiegato un milione di volte bitcoin è uno store of value ma dipende dal mercato se il mercato non lo valuta così al momento starà sbagliando il mercato però il mercato ha sempre ragione quindi nel momento in cui lo valuta una tecnologia noi dobbiamo seguire quello che dice il mercato e valutarlo come una tecnologia poi sappiamo che un giorno probabilmente sarà uno store of value proprio per la questione del bitcoin standard però al momento non è così allora molto simile quindi l'atteggiamento un po' di Nasdaq vedete la struttura ribassista siamo a metà di questo ciclo si prevede un rimbalzino cosiddetto probabilmente del gatto morto anche qui e bisognerà vedere ragazzi perché la situazione non ha nessun tipo di limitazione o di recupero da questo punto di vista ora molti di voi diranno tutto negativo adesso significa che ma non è assolutamente vero fosse così facile nella vita pensare che quando tutto il mercato si aspetta una direzione poi il mercato fa un'altra cosa cioè saremmo tutti i miliardari ragazzi allora se un tipo di analisi indica una cosa contraria a quello che si pensa allora basterebbe fare il contrario non esistono queste cose ragazzi i mercati sono estremamente imprevedibili è vero però seguono delle logiche e le logiche di trend sono fondamentali quindi il concetto che non c'è in questo momento nessun dato dettato proprio dai prezzi dei mercati che lascia presagire un possibile rimbalzo definitivo perché il rimbalzino del gatto morto quello delle ciclo mensile di bitcoin sì quello lo abbiamo detto poco fa ragazzi potrebbe avvenire se soprattutto saliamo sopra i 32.000 però non dovrebbe avere vita lunga questo è il concetto ora se i mercati non danno indicazioni positive e non ce l'hanno e basta cioè non è che significa che siccome non ce l'hanno positiva adesso noi andiamo a long perché tutto il mercato sbaglia questa è proprio una pezzeria colossale ragazzi se fosse così facile ok staremmo tutti ricchi come quelli che dicono che prevedono il futuro cioè non è assolutamente così va bene è un'altra semplificazione semplificazione proprio estremamente superficiale di questo mondo che invece è molto aleatorio va studiato con estrema cura e approfondimento e molti tecnicismi ragazzi altrimenti non se ne esce più c'è chi sbaglia da una parte e chi sbaglia dall'altra chi dice che prevede il futuro e chi dice che fa il contrario di quello che vedono gli analisti perché si inventa essere anche lui un previsore del futuro però in forma contraria ok scusate ma questa roba l'ho letta su twitter e le fandonie proprio navigano a vista e proprio da tutti i punti di vista invece c'è un concetto legato all'estensione di volatilità dei ribassi del mercato che è interessante perché per esempio Nasdaq che ha toccato un meno 32% è un mercato che diciamo è accettabile questa come fase di crisi anche perché rispetto a quella vera la fase di crisi del 2007 insomma l'ultimo la questione è Lehman le oscillazioni furono consistenti ma di un 53% considerando però che il mercato tecnologico nel 2009 2008 non era minimamente paragonabile a quello attuale sia in termini di capitalizzazione che in termini di oscillazione di importanza proprio per il tessuto economico mondiale quindi ok meno 53% però meno 53% perché erano delle aziende estremamente innovative adesso Apple non è un'azienda estremamente innovativa ragazzi Apple è come McDonald's degli anni 60 degli anni 70 quindi stiamo parlando di un'azienda iperstabile rispetto al passato e così via tutte le top 10 delle aziende tecnologiche quindi un ribasso del 32% è già un buon ribasso già se arriviamo a meno 10 da questo livello secondo me siamo a paragone con la grande crisi Lehman che è stata una crisi devastante ragazzi dove in pratica il mondo stava per finire da un giorno all'altro un giorno magari faremo un documentario da questa cosa perché io l'ho vissuta sulla mia pelle proprio quella già da lavoravo già nel settore ero già consulente allora lavoravo per un'azienda e quindi l'ho vissuta proprio sulle mia pelle perché avevo dei clienti investiti in alcune obbligazioni insomma per fortuna andò tutto bene ma in quel caso veramente per fortuna potremmo dire va bene allora detto questo andiamo a vedere al tocco la Total Market Cup della DeFi che anche lei in sostanza non dà alcun segnale anzi la struttura di questa candela verde ve l'ho già spiegata probabilmente settimana scorsa quando vi ho detto che mi aspettavo una green legge ieri vediamo se si conclude così ma il mercato ha bisogno di muoversi un pochino questa fase di atterraggio è interessante è interessante anche che la Total Market Cup della DeFi non abbia lasciato definitivamente le penne ok ragazzi perché dopo questo 40% potevamo anche assistere a una rossa non così ma una rossa così perché visto la tipologia del mercato poteva succedere di tutto invece arretto dopo il disastro del insomma della settimana del 9 maggio certo non è che sta andando bene però comunque arretto ragazzi il break di questi minimi evidenzia la struttura ciclica annuale al ribasso quindi conferma definitivamente il bear market di cui avevamo parlato quando eravamo in questa zona quando vi ho per 4 mesi rotto le scatole con il DeFi short reversal pattern che si stava andando a creare con il famosissimo gatekeeper figura che amiamo ragazzi io amo e anche in arcade vi amo questa è la figura di inversione bellissima insomma e che sta facendo va bene allora fatto questo non c'è molto da dire sulla total market di DeFi assolutamente stare long vuol dire stare contro trend poi chiunque può decidere ovviamente in maniera autonoma di assumersi i propri rischi anche perché queste cripto magari quando state dentro poi vi fanno balzi al 20-30% e bla 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 io non le uso perché in questo momento di estrema difficoltà farò solo trading su questo tipo di mercato e basta quindi non mi posiziono in holding aspetto di avere le idee chiare per una questione di hold di 1-2 anni su questo tipo di cripto quindi non mi sogno minimamente di fare operazioni di hold solo ed esclusivamente trading da pura speculazione andiamo a vedere invece la questione legata a questi 4 grafici il primo ve lo porto dopo 6 mesi di cui non ve ne parlavo perché ho fatto anche un video dove lo spiegavo questo è il grafico perché è una banalissimo moltiplicatore che indica la distanza di un prezzo dalla sua media mobile in pratica è un indicatore di eccesso di mercato e si chiama il Meyer multiple e questo indicatore lo prendo in evidenza perché proprio nelle scorse giornate ha segnato un nuovo minimo relativo non storico a 0.69 ragazzi allora dovreste trovare il mio video su questo indicatore diciamo su youtube vediamo se lo trovo io perché l'ho fatto un po' di tempo fa quindi è n centinaia di video fa probabilmente comunque ve lo dico in maniera molto semplice ha una formula particolare per calcolare la distanza del prezzo dalla sua media mobile a 200 periodi quindi in sostanza se il moltiplicatore è sotto un livello di prezzo che viene indicato un livello di valore che viene indicato in 1.41 si definisce in iper venduto sopra 2.4 si rifinisce in ipercomprato quindi in pratica il 2.4 bilcoin l'ha raggiunto vedete poche volte qui insomma eccetera però perché in realtà questo indicatore secondo me non è non è corretto prenderlo sul singolo valore perché quello va adattato al mercato ma è corretto vederlo in termini ciclici anche questo ragazzi vedete come la struttura tra gli eccessi del mercato questo è l'eccesso con il minimo del 2015 poi ripartenza questo è l'eccesso di distanza dalla media mobile di bitcoin nel 2018 proprio sul minimo 0.51 e la valorizzazione adesso siamo a 0.66 siamo molto vicini questo invece è il minimo della pandemia guardate l'eccesso in termini ciclici quindi siamo molto vicini probabilmente alla conclusione di questa fase di diciamo finale di questo bear market ovviamente essendo un indicatore di lungo 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 periodo non ha assolutamente senso valutarlo da qui a due mesi ragazzi proprio questo indicatore si valuta a trimestri semestri ogni volta quindi è un indicatore di lunghissimo periodo perciò ci dice che stiamo andando verso la conclusione del bear market che potrebbe avvenire anche tra quattro mesi che è un po' l'informazione che stiamo anche dicendo andiamo all'altro questo solo per farvelo vedere ragazzi come per la prima volta nella storia lo stock to flow originale quello standard di Prambi si è distaccato pienamente dalla sua struttura di efficienza e mentre arriviamo nella zona di day until the next halving quindi nella zona verde barra blu quando praticamente l'halving sta per arrivare noi siamo nella prima zona verde quindi ancora manca un po' di tempo però vedete come siamo totalmente distaccati rispetto alla precedente fase dove dovevamo essere in pratica a 100.000 dollari in questo momento ragazzi vedete invece siamo ben sotto diciamo queste cifre per non parlare della prima era della prima fase del della dello sotto flow quello intorno al 2014 e al 2012 dove praticamente i prezzi erano totalmente diverse addirittura nella prima fase non ha mai fatto neanche la parte ribassista quindi anche questo vi dice lunga ve la dice lunga sulla questione che si ok lungo periodo si ok ma non è così semplice la questione tanto è vero che i grafici proprio di lungo periodo come lo sotto flow si sono decorrelati cioè si sono sconnessi al modello quantitativo sottostante quindi questo significa che i prezzi non stanno seguendo quello che dovevano fare e la dice lunga da tanti punti di vista quindi magari qualcosa non sta funzionando e bisognerebbe analizzare un po' meglio la struttura sicuramente è molto più impattante la questione del mondo in generale vediamo se lo recupererà questo modello nei prossimi anni però al momento lo sotto flow si è diciamo distanziato quindi il modello quantitativo sottostante sembra non funzionare più terzo grafico e poi vi mostro quello strapigo alla fine terzo grafico ragazzi è questo qui è un grafico interessantissimo perché spiega e compara le diverse ere di bitcoin in termini di struttura di mercato e vi fa vedere anche dal massimo dalla struttura del massimo dove siamo in questo momento la nostra era è questa qui cioè la quarta l'ultima era in termini di halving ragazzi quindi sono sempre dei grafici di natura macro questi e sono grafici di natura fondamentale quindi non grafici di analisi tecnica allora siamo praticamente in questo punto e qui vi fa vedere anche come c'è tanto tanto tempo ancora davanti per concludere tutta questa fase però vi fa anche vedere un pochettino quello che è interessante cioè quello che è la formazione un po' delle varie ere quindi l'era 2 l'era 3 si somigliano tantissimo ragazzi l'era 4 non è così vicina perché per esempio il massimo è avvenuto un po' dopo qualche giorno dopo circa due mesi dopo vedete i precedenti però poi la forma adesso discendente del bear market si assomiglia tanto con meno volatilità se ci fate caso perché per esempio questa struttura ha fatto un rimbalzo meno volatile qui invece si muoveva un pochino di più qui ancora di più quindi ancora una volta ci conferma che man mano che andiamo avanti verso la maturità del mercato la volatilità di bitcoin si sta riducendo anche in vista del fatto che il suo prezzo ovviamente è in rapporto alle precedenti aere molto più grande per esempio nell'era del 2017 in questa fase avevamo dei prezzi intorno ai 9.000 dollari 6.000 dollari quindi ovviamente diversi dagli attuali 30.000 va bene allora ma cosa succede se io vado a mettere dei frattali e dico al mercato mi replichi quello che è successo nell'ere precedente dell'albing dove arriverà bitcoin e quando finirà questa era di bear market se io facessi un'ipotesi tutto quello che è successo nel passato è identico a quello che succede nel futuro quindi ovviamente è sbagliato però un'idea di fondo ce la dà allora facciamo questo esempio e l'esempio è questo grafico qui raga il bitcoin cycle repeat chart che è simpaticissimo perché in pratica vi dice che noi siamo in questo punto ora quello che vedete qui in pratica da qua in poi è lo stesso minimo dal 2018 in poi quindi tutta questa struttura di bitcoin è praticamente la fotocopia di questa qui quindi ok quella che vediamo in questa zona in pratica è stata totalmente fotocopiata da qui oddio ora mi fa lo zoom e devo ok ricaricarlo allora in pratica ha fatto la copia di questa zona e l'ha ricopiata qui verso il futuro allora semplicemente così però è interessante una cosa a livello temporale ancora una volta a livello ciclico ragazzi siamo in teoria in questa zona questo che vedete qui che ancora non abbiamo visto perché da qui in poi è identico l'abbiamo già visto ed è il minimo del 2018 qui che è stato copiato e incollato questa invece è la vera zona che ancora bitcoin non ha disegnato cioè i nostri prossimi mesi e cosa hanno fatto hanno preso la struttura del 2018 quindi la fine del 2018 e l'hanno incollata in pratica in questa zona quindi questo questa fase qui ragazzi è il minimo è la struttura grafica di bitcoin nel minimo che è andato a finire a dicembre del 2018 hanno preso l'hanno messa qui e poi da qui in poi hanno messo quello che era da dicembre del 2018 fino a al 2022 quindi l'hanno copiata allora due informazioni interessantissimi su questo grafico è veramente bella da vedere uno la fase finale teoricamente vedete ci porta a cavallo di settembre ottobre 2022 quindi se noi andiamo a replicare tutta la struttura temporale abbiamo ancora necessità di avere altri 3-4 mesi di bear market purtroppo complicatucci e mancherebbe anche la fase finale di discesa e questa struttura fa anche una replica di quella che potrebbe essere addirittura il prezzo finale che praticamente cosa fanno lo interpolano dai precedenti ribassi e fanno la stessa struttura di ribasso che parte però dai prezzi attuali e arriva in teoria intorno ai 15.000 dollari 15.700 dollari fermo prestando ragazzi che questi esercizi matematici sono copia e incolla degli anni passati quindi capite bene e ve lo ripeto per la sedicesima volta che sono delle invenzioni però ci sono dei dati che sono interessanti non i livelli di prezzo ma i livelli di tempo per esempio perché la ripetitività temporale è quella già ha più valore rispetto per esempio alla ripetitività del prezzo quindi questa zona potrebbe essere quando vedete qui in questo minimo lo indicano come novembre 2011 comunque è zona intorno alla diciamo da agosto a novembre insomma quindi quella zona lì ragazzi va bene dovrebbe essere quella la zona finale di questa fase ma poi se volessimo essere più contenti vedremo che andando a replicare questa struttura come è stata fatta negli anni precedenti addirittura avremmo un possibile massimo di bitcoin a 327 mila dollari nella zona posto albing il nel mese di ottobre 2025 e allora compriamo tutto perché se io ho visto questo grafico che dice 325 mila dollari metto zero me ne compro 40 btc ragazzi e divento miliardario con questa formuletta che non si verificherà mai perché i dati sul passato fatti così sono follia perché il passato non si ripete in maniera uguale ma in maniera simile che è un discorso molto diverso molto più approfondito che vi spingo ad andare voi stessi ad approfondire il significato di questa mia affermazione perché così quando andate a guardare un dato iniziate a comprendere che il mercato o qualsiasi fenomeno in realtà nella nostra vita non si ripete uguale ma c'è sempre e ha sempre qualche leggera differenza che a volte purtroppo è anche sostanziale quindi bisogna andare a vedere e seguire pian piano questo mercato va bene allora questo grafico una figata vi ho fatto vedere quattro grafici diversi dal solito per un po' snellire la questione e vediamo se bitcoin comunque nel breve inizia comunque una nuova fase il fatto che ci troviamo vicini a una conclusione del bear market nei prossimi 4-5 mesi è interessante ragazzi soprattutto perché saranno mesi molto intensi quindi studiate e formatevi perché dopo questa fase inizia una nuova fase di bitcoin una nuova era è quella che ci interessa a noi perché quella era lì farà piazza pulita tutte le cripto progetti inutili quindi avremo la possibilità di avere accesso a criptovalute estremamente a basso prezzo ma dovremmo sapere quali dove come quando qui ragazzi se siete in forma siete forti siete preparati siete dei supereroi siete degli sparsenegger degli investimenti quando poi parte la gara e voi andate arrivate sul podio questo è il gioco quindi 4 mesi circa 3 mesi circa vediamo che succede ma intanto su con lo studio ragazzi ok va bene ci vediamo nel prossimo video anzi nella prossima live che faremo domani di nuovo perché stiamo tentando questa questione sulle live per chi non sapesse dove faccio la live sul canale telegram lei ciao ciao